Rivelazione shock a live non è la d'urso. Mercedes Enger, finora conosciuta come la figlia di Riccardo Schicchi ed Eva Enger, rivelerà infatti. Mia madre mi ha svelato l'identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Una confessione inaspettata con la quale la giovane web influencer confermerà un rumor diffuso in questi ultimi giorni. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la notizia ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone strane alla vicenda, ha detto la Enger, di cui al momento è sconosciuta l'identità del padre biologico.